Già in uso da due anni in alcune strutture, rappresenta un sistema innovativo di svuotamento e smaltimento delle sacche di urina completamente automatizzato, pensato per servizi sanitari che intendono modernizzare ed economizzare le loro procedure di trattamento del liquido organico da cateterismo vescicale. La macchina svuotasacche e urina effettua una separazione automatica tra la parte liquida ed il contenitore con un evidente risparmio economico, riducendo notevolmente i costi sostenuti per lo smaltimento dei rifiuti speciali. Riduce drasticamente il rischio di contaminazione biologica per coloro che procedono allo svuotamento delle sacche di raccolta delle urine, perché elimina la possibilità di entrare direttamente in contatto con il materiale organico. Riduce i tempi impiegazioni di smaltimento delle sacche di urina grazie ad un sistema di trattamento veloce e ad un'elevata capacità di carico. La sua forma a colonna ne permette la collocazione anche in spazi ristretti.